Benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi voglio parlare di questo ragazzo che mi ha commentato il film Among the Shadows Chi non ha visto la mia recensione lo invito a vederlo, si fa anche Durisati, che è un film del merda E come peronisti abbiamo Lindsay Lohan, per chi non la conoscesse ha iniziato con la Disney, ha fatto Mean Girls Il film più famosi suoi, poi quel pazzo che ne dico, Jamie Lee Curtis, film cut, secondo me Erbi di Super Maggiolino del cazzo e altre puttanate, finché è andata a finire, nello scatafascio completamente Cosa è successo? Mi hanno detto di tutto, non capisco un cazzo di cinema, non dovrei parlare, non ho diritto di dire un cazzo Fino a che oggi mi hanno dato anche del gay, che per me non è neanche un'offesa, è una scelta di gusti Non capisco, però io siccome voglio dire alla mia, a me piace, anziché dire così proprio volgare come questo stronzo Mi piacciono le donne Può essere più avanti, fra dieci anni mi piacciono più le donne e me ne vado a uomini, non lo so Però per adesso, io ho 27 anni della mia vita, io sono finanzato da 3 anni, ho un piccolino E per adesso mi piace soltanto la patata, quindi la salsiccia per adesso non lo so Niente, a parte gli scherzi ragazzi, questo qua mi dice che, no, non ti piace l'insilon? Sei gay, secondo lui Ma allora ditemi voi, l'insilon era una bella ragazza E qua c'ho anche delle foto che possono testimoniare che lei era una bella ragazza Ai tempi era una bella ragazza, se non fosse per la droga, per la troca che questa si è fatta Ma guardate, era una bella ragazza, tranquilla, pulita Poi è andata una merda, la merda è diventata Ma va a dare questa faccia, ti svegli tu con questa così, tu non ti cagli addosso O peggio ancora, qua ci abbiamo pure, mi ha detto pure che io, non solo io sono gay Ma anche non avrò mai i soldi di l'insilon Caro mio un coglione, l'insilon ha problemi che tu non hai idea Si è pappato tutto e pippato tutti i soldi che ha, proprio pippato veramente con la cocaina E ha precedenti lei, porca puttana, che non lo so Non lo so, qua c'ha pure le foto segnaletiche questa tizia Cioè ma come puoi? Luglio 2007 incarcerato, novembre di nuovo in carcere Luglio di nuovo, 2010 Settembre 2010 di nuovo in carcere Ottobre 2011 in carcere Io prevesco questo mondo nella mia vita di merda Anche se cazzo c'ho casa mia Non devo pagare nessuno, come te non lo so che cazzo stai facendo, che fai tu Io non c'ho problemi E mi piatta a tavola, ce l'ho Ti potrebbe migliorare la vita Però la vita di l'insilon penso che nessuno la vorrebbe Tra puttanate, stronzate, si è rifatta Le minne, si è fatta quella, si è fatto quell'altro E' diventato un mostro Poi dimmi tu, ma poi il morto, penso che il morto di figa sei tu Se ti piace avere questo abominio vicino al letto Io avrei paura Ma cos'è sta roba? Io posso capire così E allora ok, allora uno dice minchia Allora vuol dire non sei tanto Che poi ognuno per dire se uno gli piace l'insolana è anche così Dici ma qual è il problema? Ora uno è gay perché non gli piace per dire quello Non ha i gusti come te Allora così posso capire che è una bella rata Ma questo mostro qui No grazie Non lo so ragazzi vedere ma a me fai sti video Rispondendo a sti coglioni Sì, ho questo passatempo Io sono tornato là da casa Mi vedete io sono in felpa Sono ancora vestito Non mi vedete ma sono vestito Ho detto ma non vedete che faccio E no faccio sto video dedicato a questo coglione Che poi non è proprio dedicato Lo soppia per il culo a sto cretino Perché ragazzi quando io li critico Succede che poi ho meno commenti stronzi Perché hanno paura che poi verranno uscitati nei miei video Ci sembra che passa inosservato Tanto non mi costa niente a fare sto video Farò pure visualizzazioni Ti ringrazio per la tua stronzata E niente ragazzi Fatemi sapere un po' Voi Il vostro parere Cosa ne pensate di sta cosa L'insilona A parte tutto Vi piace un'attrice? Vi piaceva? A me ora fa cagare a spruzzo Proprio ve lo dico col cuore in mano Già con Among the Shadow Ho visto che non è proprio cosa È meglio Non lo so Non so cosa si può dare lei Ma meglio non fa più niente Perché uno vuol dire Si dà il porno Ma va manco quella Quella si addormenta sopra il cazzo Quindi E neanche quello può fare Niente ragazzi Come sempre Io vi ringrazio Vi saluto E al prossimo video Sperando A solito Che Non mi torno a incazzare Alla prossima Razzuoli Se vi va Scrivete qua sotto i commenti Lasciate un mi piace Commentate Iscrivete al canale Se non l'avete già fatto Solite cose Da youtuber Io vi dico Un saluto Lo voglio mandare A Salvuccio Katia Angelo Ignazio Analagna Ogni volta Angelo ti dico Tutti i nomi A te Francesco Fanara Antonio E anche Daniele Torrisi Alessio Bartoli E Andiamo Una volta Avrò Caputano Me ne scordo Sempre Cristiano Saluto anche Ragazzi Perdonatemi I nomi Non c'ho la lista Mi deve fare una lista davanti Lo dico sempre Ma non lo faccio mai Niente Un saluto E Un saluto In Un saluto Grazie a tutti.